Andiamo a vedere le paginele dei giornalosi post Juve Stabia con la partecipazione fotografica di Cosimo Simonetta. Branduani 6,5, spettatore sul gol di testa sul calcio piazzato da Juve Stabia, può solo guardare la traiettoria imprendibile. Attento comunque sul finale della prima frazione su tutti i calci piazzati durante il match. Scognamillo 6,5 parte bene permettendosi anche un doppio sombrero dopo due minuti in fase difensiva. Buono il sotteggiamento e le verticali che fa da centrale dopo l'espulsione del capitano. Martinelli 4,5 rientra dall'infortunio guadagnandosi subito un giallo che sarà la punizione del gol per i padroni di casa. Prova a chiudere di testa anticipato da Tonucci nel proseguo falloso anche in attacco. Si fa spiegare nel finale della prima frazione. Gatti 6 fa girare le palla in modo ordinato sulla sua verticale, trova un tiro nello specchio alla mezz'ora. Chiude e si disimpegna bene nella ripresa. Bagliei 6,5 presente nella spinta sull'asse con Carline Giammelo nelle ripartenze, nei cross tesi in mezzo. Nella ripresa si vede Pocola davanti per coprire la difesa. Verna 5,5 nella sua zona arrivano a troppi pochi palloni per la costruzione del gioco. Maldonado 5 si fa munire per fermare gli avversari più veloci di lui. Le sue inconclusioni dalla distanza si spengono con il pallone lontano dai pali. Carline 5,5 l'energia che mette nella corsa. Se le sue giocate verticali e i suoi appoggi non si aggiungono alle giocate di qualità viste nelle presenti partite. Vande putte 5,5 partita fuori giri per il Belga che si è dato da fare, muovendosi e facendosi murare spesso dagli avversari. Biasci 6,5 si vede dopo 20 minuti con un cross insidioso per Giammelo. Nel secondo tempo brava a trovare la convergenza sul destro per il piazzato che vale il pareggio giallorosso. Giammelo 6 prova le percussioni già da inizio gara vicino al dischetto senza incidere. Partecipa alla manovra offensiva offrendo assist e giocate che non si concretizzano. Vivarini 6,5 lavora sulle verticali che affila i suoi giocatori su un campo sintetico che necessita di un calcio più veloce. Con l'espulsione del capitano comunque con un uomo in meno non smette di far giocare la squadra a trazione anteriore mettendo dentro tutti gli attaccanti che ha a disposizione per mantenere la mentalità vincente che sta dando la squadra al suo arrivo. Nulla può con l'ennesimo errore arbitrale. Per processo giallorosso Andrea Daggiano